anna ha da fare un messaggio perché lo spazzino non esiste che per scoperta tutto corso mazzini tutto con le foglie le foglie perché uno può cadere così volare anna è caduta una tessimone diretti sono caduta mi feci male tanti anni fa sempre qua guarita e come si può risolvere perché ci deve essere più controllo è giusto e anestamente ci deve essere più pulizia perché costo mazzini lo spazzino non esiste proprio diciamo proprio che non esiste no 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 lei vede di qua fino in fondo lei non esiste voglia dappertutto ma non è che un spazzino può venire ogni volta iniziale così ok va bene si va bene già l'ho detto e basta ma va bene no e non lo so va bene è un modo di dire un intercalare va bene grazie di nuovo va bene ok e quindi va male la situazione lo deve capire lei pure io lo deve capire pure chi lo deve capire la persona che lavora qua perché ogni mattina vedi uno può pure scivolare poi se c'è un po di pioggia non ne parliamo non ne parliamo va bene va bene va bene va bene Grazie a tutti.